buongiorno a tutti ragazzi del vostro carto al curva nord alla ragazzi oggi partiamo dal perugia anziché con l'inter quindi ragazzi settimana appunto decisiva si riparte il campionato finalmente dopo la pausa nazionale riparte il campionato sia di serie a e di serie b ma oggi ragazzi partiamo appunto per la settimana che porta a perugia juve stadia ragazzi appunto grande grifo dai ragazzi abbiamo fatto un amichevole appunto due giorni fa contro la fiorentina che si è rivelata un amichevole di lusso per noi del grifo che è stata un amichevole a dir poco ragazzi il risultato un po bugiardello l'ho vista solamente dal sessantesimo in poi però da quel poco che ho visto siamo stati veramente bravi veramente bravi un amichevole di lusso ragazzi che però l'abbiamo onorata questa amichevole contro la fiorentina che è stata vinta dalla fiorentina purtroppo per solo 1 a 0 ma meritavamo qualcosina di più ma era solamente un amichevole appunto quindi ragazzi non disperiamo adesso arriva a renato curi sabato 14 settembre arriva la juve stabia dove noi ragazzi arriviamo da due vittorie consecutive quindi mi aspetto mi aspetto da massimo oddo appunto un'altra prestazione maiuscola è stato preso appunto adesso ragazzi non vi faccio l'elenco appunto degli ultimi arrivati in casa perugia ma sappiamo benissimamente ragazzi che comunque veniamo da due vittorie consecutive e questa amichevole appunto che poteva e poteva anche essere il risultato secondo me molto migliore cospetto a quello che si è visto in campo perché abbiamo prodotto veramente assai però intanto ragazzi sta amichevole comunque ci ha servito e ci servirà sicuramente deve essere appunto un'ottima marcia per arrivare appunto a questa partita con la juve stabia sabato davanti al nostro pubblico renato curi dobbiamo fare la nostra bellissima figura e ancora una volta marciare marciare perché si sa benissimo che il campionato di serie b non è così mai scontato è bello pedalare 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 sono sicuro che anche con la juve stabia ragazzi la potremmo portare a casa perché noi lo vogliamo dobbiamo vendere per gli artigli appunto subito subito questa juve stabia le vespe e anche se dobbiamo rispettarle le vespe campane noi non dobbiamo dargli la possibilità appunto di farci del mare noi siamo il grifo e dobbiamo andare avanti per questa strada perché quest'anno rega mi sento qualcosa di inedito non è che sto arrivato io comunque a commentare che mi sento qualcosa pare che sto portato a fortuna due vittorie in due partite quindi rega voglio mancare la terza vittoria non c'è due senza tre quindi dagli e grifo ci siamo siamo pronti a questo punto sabato ore 15 ragazzi poi mi dovete appunto su twitch con una cosa inedita che non dico che è una cosa inedita che non dico appunto ci vedremo per la live action appunto per perugia juve stabia ragazzi continuate a scrivervi al canale youtube mi raccomando ragazzi sostenetemi anche in questa nuova avventura che spero che vi sta piacendo e capito che vi sta piacendo come non mai ringrazio sempre e comunque l'artiglio del grifo per il suo collaborazione e la sua pagina che mi sponsorizza un grandissimo abbraccio dal vostro carto al curva nord e dagli e grifo che saranno appiare sta terza vittoria andiamo